23 giugno 2023 Neciugorie ultimo messaggio della Madonna a Ivan desidero realizzare alcuni miei piani pregate per la pace e sarete tutti con Gesù cari figli anche oggi desidero invitarvi alla pace qui mi sono presentata come la regina della pace anche voi invito ad essere miei portatori in questo mondo stanco che portiate la pace pregate per la pace pregate per i miei piani che desidero realizzare perché mio figlio mi ha permesso di restare così a lungo con voi perché desidero insegnarvi desidero educarvi e condurvi tutti a Gesù così voi potete sperimentare la vera e profonda pace grazie cari figli perché anche oggi avete risposto alla mia chiamata grazie a tutti